Con Francesco Rizzi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, oggi siamo alla mostra d'oltremare per un convegno che porta alla conoscenza di tutti i primi dati dimostrativi sul progetto Prisca. Ce ne puoi parlare brevemente? Sì, il progetto Prisca è un progetto che nasce con l'obiettivo di dimostrare che circa il 60% degli oggetti che vengono a essere inviati ai centri di raccolta possono effettivamente avere la loro vita prolungata con una rimissione nel mercato. Insieme ai partner del nostro progetto che sono Occhio del Reciclone, la cooperativa Insieme di Vicenza, la società Van SRL di Vicenza e la comunità di San Benedetto del Tronto e WWF Ricerche e Progetti stiamo appunto dimostrando sul sito di Vicenza e di San Benedetto del Tronto la sostenibilità ambientale ed economica di un modello di preparazione al riutilizzo che avrà come benefici preponderanti a livello territoriale la creazione di nuovi posti di lavoro e la messa a disposizione per le classi sociali e ambienti di oggetti che comunque possono svolgere una loro attività, una loro utilità e che sono reperibili a prezzi decisamente competitivi.